Ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi parliamo di strategie di trading di natura operativa, quindi andiamo live sull'exchange, andiamo ad impostare una strategia di trading su Ethereum perché sta facendo una bella reazione e vi faccio vedere come si può creare proprio in un momento del genere una strategia di trading utilizzando due tipologie di ordini differenti, un ordine stop e un ordine buy the dip nella parte bassa e andremo a impostare proprio questa operatività dal vivo sul mio conto. Seguiremo poi questa operazione man mano che andrà avanti, vedremo un po' come diciamo andrà, è un'operazione di trading, questo è un video quindi di strategie di trading, per andare al clou della questione ragazzi andremo a utilizzare quello che è il mio broker preferito in questo caso, quando vado a utilizzare quelle che sono delle strategie di trading operativo molto veloci, quindi dinamiche e dinamiche che io uso sempre ragazzi Prime XBT ormai lo sapete, tra le altre cose proprio in questo video c'è una super offertona di Prime perché mi ha dato una serie di coupon da 0.005 BTC da distribuire ieri li ho già dati nel webinar che ho fatto sulle strategie in barra di congestione, webinar che è andato benissimo, è stata un'azione pesantissima ragazzi, molto bella, l'ho messa all'interno del mio corso ma oggi Prime mi ha chiamato e mi ha detto ok, ti do altri coupon in questione, sono 5 coupon da 0.005 BTC ragazzi e possono essere distribuiti a chi acquista oggi il corso basic di It's Trading Time ragazzi quindi oltre ad avere il bonus classico che in questo momento è ancora attivo, luglio 10 che vi dà lo sconto del 10% su tutti i corsi sul sito Trading On, in questo caso basta poi inviarmi una mail su info-tradingon.it e ragazzi vi prendete anche questo tipo di bonus con il quale operare con Prime XBT, vi lascio tutta questa fanfara in descrizione così andate a vedere come si fa quindi basta comprare il corso, mandarmi un'email con il nome, il nominativo ovviamente e vi arriva sulla email il bonus di Prime, 165 dollari completamente regalati ragazzi per operare quando vi pare è fare i vostri test, tra le altre cose i profitti sono anche prelevabili quindi è un po' come questo bonus che ho io da 0.2 ragazzi, la stessa identica cosa allora andiamo a impostare quello che è l'operatività sul nostro Exchange Prime XBT ragazzi come sempre anche per aprire l'Exchange tutti i link sono in descrizione questo è il grafico che andremo a utilizzare intanto ETHUSD 1D e poi andremo ad avere una conferma su ETHUSD 1 ora, allora quello che sta succedendo in questo caso, in questo momento togliamo qui così riusciamo a vedere meglio il grafico, è il rimbalzo di ETH su un livello molto importante di supporto che attendevo già da un po', lo so che alcuni di voi saranno dicendo ma non è sceso il livello di supporto, non è andato più in basso di quanto doveva ragazzi queste cose le ho spiegate proprio nel webinar ieri, ho messo tra l'altro la lezione la trovate già qui, la lezione che è questa che abbiamo fatto ieri strategie di trading per i mercati in bara di congestione è già pubblicata per tutti gli iscritti proprio in questa lezione io ho spiegato come si devono utilizzare i livelli di ingresso utilizzando una barra leggermente più ristretta con degli indicatori di volatilità è ovviamente un'informazione estremamente professional ragazzi quindi l'abbiamo messa nel corso proprio perché servono le basi per comprendere queste cose, in ogni caso questo tipo di livello di supporto è stato estremamente rilevante per ETH, io lo attendevo qui e la prima giornata di rimbalzo che sta avvenendo con questa candela daily di price action che a me piace tantissimo ci porta il primo trigger per avviare quella che è la nostra strategia di cui parliamo oggi strategia che è molto semplice ragazzi può essere impostata in maniera molto facile allora la strategia in questione presuppone che se domani il livello di ETH vada a rompere quella che è questo costrutto di due candele che sono state create cioè una candela totalmente red quindi negativa poi una candela che invece va a scendere sui minimi che è al di sotto diciamo dei minimi della precedente candela vi faccio uno zoom per farvelo vedere vedete qui questa mattina scende al di sotto dei minimi ma poi recupera quindi apre allo stesso livello di chiusura chiaramente poi scende ma recupera questa è una candela di inversione se questo livello di inversione verrà confermato nella giornata di domani allora si può andare long inserendo un ordine di natura stop a breakout cosa sono gli ordini stop come si inseriscono su prime xbt un ordine stop è un ordine che viene eseguito solo è solo se il mercato va a toccare un livello più alto di prezzo rispetto a quello attuale non più basso quindi non è un ordine limite cioè non è un ordine che viene eseguito se il prezzo scende ma se il prezzo sale proprio perché io non voglio entrare in questo tipo di operatività in questo momento io voglio entrare solo se c'è un segnale di molta forza da parte di et h e deve avvenire nelle prossime ore domani ok quindi se avviene questo tipo di segnale solo se avviene questo tipo di segnale io entrerò sul mercato vi faccio l'esempio quindi in questo caso se et h va a breccare per esempio questo livello che io ho segnato quindi va a salire tocca questo livello solo in questo punto io andrò a comprare questo tipo di ordini che sono definiti ordini stop si chiamano così stop entry non stop loss nel momento in cui vanno eseguiti indicano che il mercato è molto forte quindi io non salgo sul treno di un mercato che sta scendendo quindi non faccio un buy the dip faccio un breakout si chiama così il livello di strategia impostiamo questo livello allora proprio come spiego sempre nella famosa lezione del mio corso ragazzi qui fidatemi di me questo il livello che io ho tenuto a mente in questo momento circa 2000 e 60 per quanto riguarda et h se nelle prossime ore barra domani il mercato mi disegna una candela che va a breccare questo tipo di livello io decido di entrare long qui questo tipo di ordine stop non è eseguibile in tutti quanti gli exchange ci sono dei modi per farlo su binance non è facilissimo farlo ragazzi per questo io preferisco anche perché è un'operatività estremamente veloce quindi non ho idea di restare su una operazione del genere tantissimi mesi o settimane ma sarà un trading magari di qualche giorno allora preferisco parlo su prime perché è molto più semplice in mettere un ordine stop semplicemente ragazzi clicco con il tasto destro metto un buy qui al posto di order type limit metto order type stop poi metto l'amount che in questo caso decido di comprarmi due anzi facciamo una cosa facciamo 1.5 ethereum quindi c'è di entrare con questa quota di et h dopo di che vado a dirgli quale prezzo lo stop price che è indicato proprio qui è come vi ho detto prima vado a inserire 2.060 a questo punto potrei anche cliccando su questo livello place stop loss and tech profit andare a inserire già direttamente il livello di stop e take andiamo a inserire quello che il livello di stop loss in questo momento per proteggerci il livello di stop loss è il minimo della giornata di oggi dove sto registrando quindi questo minimo qui che è stato fatto di recente cioè intorno a 18 e 50 quindi vado a inserire questo prezzo di stop loss a 1.850 scusate che io ogni tanto taglio e vado un po a praticamente stringere i numeri un poco li leggo io quelli a due a due ragazzi ok però va beh allora 18 5 sarebbe 18 50 dopodiché clicco sul send order non definisco attualmente il take profit perché voglio aspettare poi per vedere anche la forza del mercato se dovesse entrare questo ordine inserito questo tipo di ordine il mercato vedete mi ha inserito già sul grafico di prime questo entry buy con ordine stop che io posso anche andare tra le altre cose a a vedere nella nella mio order position e order che troverò qui in questo momento ok qui ci sono due livelli di ordine c'è anche un altro livello di ordine su btc che è impostato un prezzo molto più basso ma allora vedete qui in questo punto quello che è il livello che è già stato inserito non è stato eseguito ovviamente anche se io volessi potrei anche decidere di andare a cambiare questo questo tipo di ordine semplicemente andandolo a re impostare quindi cancellandolo e re impostando questo questo ordine bene allora questo è il tipo di operatività stop poi dopo di che aggiungiamo a questo tipo di operatività ragazzi anche quelle che sono le operatività in buy the dip quindi mi piace andare a inserire un ulteriore ingresso se nella giornata di domani il mercato dimostra debolezza ma non scende sotto il livello di minimo di oggi andiamo di nuovo a impostare questa strategia questa nostra candela di riferimento questi sono i pattern che stiamo prendendo se domani magari il mercato invece di andare su mi va a ritracciare un pezzo di questa candela io provo a entrare in take quindi in buy the dip esattamente intorno a una metà di questa candela che si è andata a creare un po diciamo un po più su io in questo momento metterei 1.960 come ordine d'ingresso cambiamo anche colore magari a questa lineetta così non ci confondiamo ragazzi allora lo facciamo di un colore più chiaro benissimo allora questo è un buy stop questo invece sarà un nostro buy the dip il buy the dip viene inserito utilizzando l'ordine limite su eth quindi vado sempre qua tasto destro buy in questo caso order type mi resta limite la mount resta quello identico perché non cambio money management quindi farò lo stesso ingresso a 1.5 eth il side e buy invece di mettere 1.963 metrò 1.960 anche in questo caso posso andare a inserire direttamente il mio stop loss che era in questo punto 1.850 e lo vado a inserire direttamente nell'ordine premo in questo caso send order e mi troverò il piazzato vedete quest'altro ordine in buy the dip con uno stop loss già attuato in nel position negli orders di prime xbt eccoli qui i due ordini che abbiamo impostato questa è la nostra entry strategy per quanto riguarda questo tipo di operatività un entry strategy che va a essere configurata come una strategia di ingresso doppia quindi che utilizza sia un ordine stop quindi di forza sul mercato sia un buy the dip se domani il mercato dimostra di essere un po più debole allora e cosa succede e perché ho diviso questo tipo di ingresso in due ingressi questa cosa intanto si chiama scaling in in termini di trading quindi quando andiamo a dividere gli ingressi parliamo di un concetto che si chiama scaling in l'ho fatto per non assumermi troppo rischio in un determinato momento perché se domani il mercato per esempio dovesse scendere in basso io non vado assumere una posizione molto alta ma compro un pezzettino 1.5 e th e poi aspetto che il mercato mi dia segnale di forza in questo modo se il mercato non mi dà segnale di forza e va direttamente ai stop loss dell'operazione io vado a chiudere con uno stop su una posizione più piccolina quindi questo sistema di scaling in mi rende efficiente il mio entry timing quindi questo è l'utilizzo di di sdoppiare appunto il i segnali bene ragazzi allora vi ho fatto capire quello che sto facendo su e th abbiamo provato a impostare questa situazione e questo tipo di operatività provate anche voi a gestire i vostri entry e sulla base delle vostre strategie quando creato ad esempio un trading plan utilizzando per esempio questa tecnica dello scaling in andando a dividere le posizioni senza assumere tutto il rischio in una volta andandole a dividere magari con due strategie completamente opposte una è una strategia che va a comprare sulla debolezza quindi in questo punto una strategia che va a comprare se il mercato sale in uno o nell'altro caso probabilmente entreremo in posizione su e th poi andremo a gestire questo tipo di operatività utilizzando anche quelli che sono i take profit in questo momento va bene così in questo momento abbiamo impostato questo tipo di operatività fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre iscrivetevi al canale lasciatemi un mi piace vi rinnovi super offerte relativamente al corso basic ragazzi è il coupon di prime ne sono rimasti solo cinque perché ieri ne abbiamo dati già altri cinque durante la live ragazzi allora tutti quelli che sono i coupon di prime per avere 0.05 btc gratuiti da utilizzare per fare anche questa operazione che abbiamo per esempio impostato potete tranquillamente impostarla ragazzi basta acquistare il corso basic o anche il corso pro la stessa cosa dopodiché inviatemi una mail e vi arriva il coupon con 0.05 btc ho detto tutto sto sudando ho finito per oggi fatemi sapere cosa ne pensate non ci ragioniamo nel prossimo video ciao a tutti